Abitare a Milano in classe energetica A. In via Monti Sabini, in una posizione ben collegata con il centro cittadino e a due passi da via Ripamonti, Filca Cooperative sta per avviare i lavori per la realizzazione della residenza vigentina. L'intervento, inserito in un contesto di spazi verdi attrezzati e con asse ad uso esclusivamente ciclopedonale, è collocato nelle immediate vicinanze del nuovo asilo nido, della nuova scuola per l'infanzia e di tutti i principali servizi. Gli appartamenti, dal bilocale al quadrilocale, sono realizzati con materiali e finiture di elevata qualità e con le tecnologie innovative dello standard Biocasa più Filca, che migliora il benessere psicofisico della persona, riduce l'impatto sull'ambiente e abbatte i consumi energetici. Riscaldare e raffrescare una Biocasa più Filca costa infatti meno di un euro al giorno. Diverse le soluzioni disponibili, bilocali con cantina a 169 mila euro oppure a 188 mila euro, trilocale a 271 mila euro, cantina inclusa. Filca assicura i prezzi chiavi in mano, la triplice garanzia per un investimento sicuro e i mutui alle migliori condizioni di mercato, a tasso fisso o variabile, da 10 a 30 anni, con zero costi per perizia, istruttore e notaio. Scegli l'eccellenza dell'abitare, scegli Filca Cooperative.